La Vibrocementi di Cali Francesco fornisce prodotti per il mercato edile, stradale, industriale e agricolo La Vibrocementi di Cali Francesco è specializzata nella produzione di manufatti prefabbricati, vibrati e armati fornisce prodotti per il mercato edile, stradale, industriale e agricolo Disponendo di un'adeguata attrezzatura è personale specializzato per ottimizzare i prodotti in base alle esigenze di mercato Produce tubi, pozzetti, cordoli e marciapiedi È in grado di realizzare qualsiasi manufatto su specifica richiesta del cliente Azienda certificata Eniso 9001-2000 Catania Via Fondo Romeo 19 www.vibrocementi.ct.it